Era un po' un appuntamento importante per dar forza a questo movimento. Il tutto si concretizzerà domani con la consegna simbolica delle chiavi al sindaco da parte di una nostra rappresentante e stasera era importante per noi. Avete anche apparecchiato simbolicamente un tavolo? Sì, in maniera un po' nostalgica vogliamo credere che il nostro lavoro sia questo e che rimanga questo.